Nel corso della terza puntata dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi ha dato a Francesca Cipriani la possibilità di replicare le offese di Cecilia Capriotti, che in settimana durante un litigio l'ha definita un fenomeno da baraccone. La showgirl ha spiegato di non rispecchiarsi affatto nella definizione datale dalla nautraga. Durante un'accesa discussione avvenuta in settimana, Cecilia Capriotti ha usato parole decisamente poco carine nei confronti di Francesca Cipriani. Tutto ha avuto inizio quando la bionda showgirl si è detta delusa da lei. Pensavo che saremmo diventate amiche e che ci saremmo frequentate anche dopo l'Isola. La risposta della Capriotti, però, è stata. Non possiamo frequentarci, siamo troppo diverse. Io mi vergogno a uscire con te, sei un fenomeno da baraccone. La frase di Cecilia Capriotti è stata ripresa in puntata. Alessia Marcuzzi ha chiesto alla Cipriani. Tu ti reputi un fenomeno da baraccone? Pronta la risposta di Francesca? No, sono una ragazza colorata e prosperosa. La sua risposta è piaciuta molto soprattutto a Mara Venier che ha sottolineato come le parole della Capriotti non siano state affatto carine. Cecilia si è difesa. Le ho detto quelle parole solo perché lei mi ha detto che ero bugiarda. Dopo un primo momento di diffidenza, gli spettatori hanno iniziato ad apprezzare Francesca Cipriani. Dopo la risposta data dalla showgirl a Cecilia Capriotti, poi, l'affetto nei suoi confronti è raddoppiato. In tanti dicono già di volerla è finale o addirittura vincitrice dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi. Chi se ne frega.